E' passata ormai una settimana dalla clamorosa rivolta dei profughi lungo l'Alemagna. Mercoledì scorso a Vittorio Veneto la manifestazione a colpi di blocchi stradali sulla Statale 51 da parte di un centinaio di ospiti del CEIS di Belluno. Rispetto a quel giorno la situazione è tornata apparentemente alla normalità, ma in realtà i disagi restano per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti e le preoccupazioni dei residenti rinfocolate dalle notizie provenienti da Treviso sui possibili nuovi arrivi nella marca con relativo seguito di problemi e polemiche, questioni al centro di un incontro fra Comune e CGL. Sono troppi, tutti messi nello stesso posto ed evidentemente anche la cooperativa che li gestisce, che ha vinto un bando della prefettura, forse non è all'altezza di farlo, perché altrove tensioni del genere sono avvenute. La città pretende, pretende da parte di tutti, indipendentemente che siano cittadini residenti o meno, da tutti pretende il rispetto assoluto delle regole. Confermato dunque l'allontanamento dei fomentatori della protesta, ma nel frattempo gli altri vorrebbero rendersi utili nei confronti della collettività. Si chiede al Comune quali possono essere dei piccoli lavori di pubblica utilità per la città e loro si prestano gratuitamente a farlo e la cooperativa li assicura che è l'unico problema che si può porre. Una proposta accolta dal Municipio, purché si tratti di una misura a costo zero per la comunità. Non è disposta assolutamente a pagare un centesimo per nessuno, anche perché questi sono già mantenuti dalla cooperativa che ha vinto l'appalto con la Prefettura.